In termini di visitatori sicuramente sono arrivati dei segnali che fanno sperare per il futuro. Naturalmente la situazione occupazionale sul territorio è ancora molto preoccupante. Certamente queste indicazioni che il Mica mi ha dato e con una lieve ripresa dell'Esport che si è manifestata negli ultimi mesi fanno sperare per un'effettiva ripresa. Quali numeri contraddistinguono in questo momento il comparto calzaturiero della provincia di Macerata in termini di imprese medio-piccole e di occupazione? Abbiamo circa 1000 imprese di cui 150 industriali che raccolgono circa 13.000 dipendenti. A queste vanno aggiunti anche i dipendenti che lavorano nel settore della componente dentistica per calzature e nella pelletteria. Il Mica è stata la fiera che tutti volevamo questo settembre perché è stata una fiera in cui abbiamo ricevuto tanti segnali positivi sia di presenza da tutti i mercati del mondo in quanto al Mica abbiamo avuto americani, giapponesi, quindi orientali, clienti da paesi arabi, russi, dall'Europa e tanti italiani. Quindi questo è il primo segnale. E poi i clienti interessati all'acquisto in quanto la stazione invernale sta iniziando nei negozi, hanno budget per acquistare, quindi percentuale in positivo rispetto all'anno scorso. È vero che venivamo da due anni tremendi, però i segnali positivi del Mica ci incoraggiano a guardare in maniera rosa il futuro. Qual è lo stato di salute attuale del Made in Italy nel mondo della calzatura? Il Made in Italy è in ottima salute, grazie anche alle gaffe dei nostri concorrenti, soprattutto cinesi, che non stanno consegnando ai clienti europei, sono in ritardo, consegnano male e stanno aumentando finalmente anche i prezzi perché hanno aumenti di costi. Ci voleva la contaminazione anche un po' sindacale in Cina per fare in modo che certi diritti venivano rispettati e quindi aumentano anche i loro ricosti. Quindi lo stato di salute è buono, ovviamente adesso stanno noi imprenditori, credere nelle nostre imprese, investire nelle nostre imprese senza attendere i soliti aiuti dall'alto.